Arrestato a Pavia l'ex presidente di ASM, Luca Maria Filippi Filippi, figlio di Ettore, ex vice sindaco di Pavia ed ex funzionario di pubblica sicurezza, già arrestato in passato. Le accuse sono di peculato, corruzione, atti contrarie ai doveri d'ufficio, induzione in debita, dare o promettere utilità. L'operazione, denominata Io Pago, è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Pavia. Dalle indagini è emerso che l'arrestato ha portato ad un aumento delle assunzioni del 300%, contribuendo a creare un disavanzo pari a circa mezzo milione di euro. Filippi Filippi, in qualità di presidente di ASM, lavori di Pavia, utilizzava inoltre per fini privati la disponibilità di denaro pubblico tramite varie carte di credito aziendali, per un importo superiore ai 50.000 euro. Da quanto emerso dalle indagini, l'ex presidente era solito frequentare alberghi e ristoranti di Roma, della Riviera Ligure e della Puglia, pagando con soldi dell'ASM non solo le proprie spese personali, ma anche quelle di amici e familiari che lo accompagnavano. L'utilizzo in debito della carta intestata alla società è stato accertato anche con riferimento ad alcune spese sostenute per trascorrere una serata presso un night capitolino. È emerso inoltre che Filippi Filippi, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, concordava con gli imprenditori la corrispensione a suo favore di una percentuale del 10% sul totale dell'opera pubblica affidata. È questo il caso del progetto artistico di illuminazione realizzato sul Ponte dell'Impero. Grazie a tutti.